Perché i testicoli fanno male, possono fare male? Le cause di dolore testicolare in realtà sono molte, non tutte in realtà causate da una patologia testicolare, ma spesso ci troviamo di fronte anche a dei dolori riferiti al testicolo, cioè una delle cause più frequenti di cosiddetta orchialgia, specialmente nei giovani sportivi, attivi, fisicamente, eccetera, sono le nevralgie genitofemorali o ilinguinali, cioè infiammazioni di nervi che partono dalla colonna lombare, percorrono il fianco e attraverso il canale inguinale vanno a dare l'innervazione, la sensibilità ai genitali e anche ai testicoli in particolare. Quindi in questi casi di infiammazioni legati a eccessivo stress fisico, sforzi eccessivi, possiamo avere un dolore generalizzato a livello scrotale, testicolare, inguinale, determinato in realtà non da una patologia testicolare in sé, ma da un'infiammazione che proviene da altre parti. Questa infiammazione può dipendere anche da posture inadeguate, da legate magari a problemi di piedi piatti, problemi di ginocchia, cioè problemi che vanno al di là e al di fuori della patologia urologica in sé. Quindi è importante avere un occhio che tenga conto di diversi aspetti, anche posturali ad esempio, che ci portino ad analizzare cause diverse dalla semplice malattia testicolare. Malattia testicolare che può essere in realtà poi la causa di un dolore a livello scrotale quando insorge ad esempio un'infezione, l'orchite, l'epidimite, cioè l'infiammazione, l'infezione acuta del contenuto dello scroto, quindi o il testicolo o l'epididimo, può dare un dolore molto acuto, molto intenso a livello genitale che può essere monolaterale o bilaterale e questo poi dipende dalle caratteristiche dell'infezione che coinvolge appunto gli organi genitali. In questo caso di solito ci sono delle tumefazioni, quindi degli aumenti di volume di una parte dello scroto, di tutto lo scroto in generale, quindi è fondamentale fare poi una visita per verificare la diagnosi. Altre cause di dolore di dolore scrotale, la più grave di tutte è la torsione testicolare che in realtà è un'emergenza urologica, andrologica. La torsione testicolare è il classico dolore acuto, improvviso, molto intenso che ci porta al pronto soccorso in realtà per due motivi. Uno perché il dolore è talmente intenso che chi lo subisce smette di fare quello che sta facendo perché appunto non riesce a sopportare l'intensità del dolore e due perché ci va una soluzione immediata, rapida, urgente, cioè bisogna detorcere questo testicolo, fissarlo per evitare danni in futuro nel più breve tempo possibile. Quindi in sintesi le cause di dolore genitale possono essere del tutto benigne in caso di patologie infiammatorie dei nervi che danno la sensibilità al testicolo e in questo caso ci danno aiuto agli antinfiammatori, il riposo o la ginnastica posturale, la fisioterapia, la riabilitazione con i nostri colleghi osteopati con cui gestiamo questo tipo di dolore. Oppure possono essere dolori da patologia effettivamente scrotale come le infezioni, epididimi, torchite o la più grave torsione del testicolo.